Il team L1 offline sarà da canale oppure no? Vediamo subito cosa ci dirà questa partita Vai, Dando, Checco e Zerbas, quelli 1 sono qua No, frate, ammate, vuoi fare questa roba Per questo non voglio mai fare pubblico, perché è 130 di mafia Oddio la butta tu giù, la butta tu giù, la butta tu giù, bravo, così prendi tutto, prendi la roba, prendi la roba, copri, prendi le roba No, dietro, 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 dietro la casa, dentro la casa, ecco la casa, ecco, a destra, destra Prendi tutto, curati, curati, prendi tutto, 500 di marzo, 200 di perro e 70 di mattone Vabbè, ma è? Qua cosa? Non gli ha fatto niente No, ti devi fare la porta Chiudi 200 è chiuso No Proprio Intendo che se fa una rampa sei morto Eh, è morto Ok, è nato, attenzione No, ha sbagliato il musano, ha sbagliato il musano Ma non c'è munizioni No, c'è, c'è Ok Ciao, ciao Non ci frega Ma, 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 ma Ok, si è messo bene Ok, ok, ok No Aspetta, non l'hanno visto, non l'hanno visto, non l'hanno visto Non l'hanno visto Non l'hanno visto No, devi continuare Non l'hanno visto, non l'hanno visto Ok, 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 tranqui, tranqui E te hai 4 di 3 di 1 in teoria Ce la posso fare perché ho lanciato la razza Uh, stai pressando Ma zucca, non l'ho lanciato la razza Uno, tutti No, frammenti Vabbè, scelgo, scelgo Capanna, capanna, capanna Vabbè No, fai, fai, fai Bravo, bravissima, bravissima Così si ricarica il chug chug No, si ricarica il chug chug Ricarica tutto Aspetta che si stanno a ammazzare Tanto di ammazzare Se riesco a andare in New in Aig Quello è un team che sta messo male C'è, c'è, c'è Aspetta, aspetta Non ho ragione Prima fullati Sì, sì, infatti Quanto ti manca Quanto ti manca per il Eh, ancora un po' Eh, aspetta Aspetta che non sanno dove sei Non sanno dove sei Non ti farvi Non sanno dove sei Nessuno si Lo so Un team sta messo male Perché ha restato ora Se questo viene su sto detto Sì, ma non ti far vedere Non ti far vedere Bravo E qui davanti Non è quello con rampine Sì, sì, lo so Ce la fai, ce la fai Io mi muovo solo quando si è ricaricato Mi muovo il chug Così Bravo Bravo Non mi muovo ancora Però non ti muovere proprio a livello muscolare Che ti sento di passi Fermati Ti senti passi Oh no Eccolo, vedi Eccolo Non sbagliare Fermati, fermati Quello sta cercando Oh, appena Appena ti ricarica il chug In teoria siamo io e lui Contro una scuola Ecco, fermati Eccoli, eccoli Si stanno Eccoli Fermati, rimani giù Rimani giù Aspetta Ok, butta i raggi Bravo, bravo Bravo, bravo Uh, attento Aspetta, aspetta Sopra, sopra, sopra Non a quello sotto A quello sopra devi sparare Perché quello che è un rampire È quello tosto Quello che è un rampiro Appena sei vicino Devi sparare Perché ora è un po' improvabile Aspetta Qua c'è il rampino Fermati, fermati sotto Non ti far vedere Non ti far vedere C'è il cerchino C'è il cerchino C'è il cerchino Eh, ti ha visto Voglio solizzare io Eh, ma ti ha visto Ti ha visto, ti ha visto Sì, sì Sì, shawla Lugone, shawla Che mi ha visto Non diamo un nuovo In safe Ok Hanno rianimate di nuovo Ma come? Ecco, ti vuoi di dare Ti vuoi di dare No Ma come? Ha l'altro detto Quello crampino Eh sì È quello con quale Combatterai adesso Occhio Di copri a destra A destra Ecco, eccolo Si è messo lì Si è messo lì Attenzione Entra dentro la casa Entra dentro la casa No Lugone, eh Spero Che devo avere visuale Avevo sento Lo sento Ma se io Mi so zitto Occhio a aver lanciato in mano Perché quante volte Sono morti Io per averlo Certo Se io ti lo grazie L'ha ben piazzato Gli entra dentro L'ho detto 3-8 col piangere È la safe da lui Prova a muoverti ora Prova a muoverti ora Vabbè è una jump Aspetta, aspetta, aspetta Devi jumpare basso Mettiti Mettiti subito Cioè non devi mettere Mure dopo scala Subito scala Ti ha visto Eccolo Aspetta, aspetta, aspetta Non girare i lanciarati No Ora sei proprio in alto Se mi spari con l'acerlazio Ora muori tu Anche tu Zampa, zampa Bravo Mi fai dentro l'altro Che sono di laser 780 di mazza E 100 di carro Farma l'albero Farma l'albero Eh no ma inutile Tanto il legno non serve No ma che corra Che secondo me Devi tenere per l'endgame Ah sta di insalire Fai cadere Fai cadere Sì sì Fai cadere al centro Al centro Al centro Sotto Non prendono Non prendono No Non voglio sprecare Ah perché Quelli c'hanno il rampino Eh però E' per gli sparavigli Però gli sparavigli Non si prendevano un po' di danno Eh boh Pensione Attenzione 4V1 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 Attenzione Attenzione Tentano il cecchino Che non deve sforzare Ah ma hai usato la jump Giusto Sì sì Ecco 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 Lasciandati dall'inventario Riprendilo Non devi sprecare Non devi sprecare i colpi Ah sono due contro Uno Sono due contro Uno Aspetta No Ok Sono tre Sono tre Tutte e tre Vai va dentro Ma se questi Iudono sotto E mi spammano Io lì Lo Aspetta Appena vedi che fightano No Ah è sprecato un colpi Non devi sprecare C'è tre colpi Che sono lì Fatelo fare Fatelo fare Fatelo fare Fatelo fare Che mo è delicato Devi fare la testa su Perché mo Uh Uno è morto C'è di uno 115 Morto Ricarica Ricarica Non c'è la zi Non c'è la zi Eccomi Eccomi raga Mi ero bazzata No no Ma tu Ok Allora Ok Lascia No Lo devi lasciare white Secondo me Lo devi lasciare Ecco 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 Butta Vai Prova Buona Ok Vai Butta Vai No Dei tavoletta Un'adeguata 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 Uno più Uno Zero colpi Ancelali Prova a farti il caccia Tanto non riusci Dopo farlo E' vero E' vero Dopo non Ecco Che Dime che Forse E' fuori Sevi Sa Di che Di far Il caccia Non hai Tempo Dopo Aspetta Aspetta Deve L'ulta Butta Aspetta Aspetta Fuori Sef Vuole E' una Trappola E' una Trappola E' una Trappola E' una Trappola Eccolo Attenzione Oppure potresti provare Aspettare Lentine Dovrei riuscire a prendere qualcosa Per il like Perché lui mi sa Che vince Il livello Checo Potresti aspettare Per la Save Checo Hai otto colpi In bazooka Fai cadere Spammali C'hai mille colpi a R No Checo Eh Costruisci Costruisci Devi coprire Spara Spara Spari 400 Max Ok Vai con Che 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 questo è da canale questo è da canale questo è da canale mamma mia che partita che partita 150 internet alla faccia di chi ci dice che siamo scarsi soli a tornare ma è fatto ma è fatto una partita comunque io non riuscirei mai a no tu eri morto c'è sì 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 no no ma perché comunque lui utilizza molto brain gli piace la tattica giusto quindi gente ragazza io mi ricordo quando avevo vinto con i flopper di cui lei disse il primo napoletano bravo bravo tira tutta l'anima napoletana che è in te bella questa questa mettiamo da canale questo è da canale sì 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 assolutamente bravissima bravissima e io non lo sento più che ecco non lo sento ok ok ecco mi sento mi sento ho craccato uno però non ho colpito il lancio razzi rimani lì tanto qui ci sono tanto su set non ti fa sentire non ti fa sentire che ecco fermo di no voglio costruirmi sotto o si stanno ammazzata di loro aspetta perfetto ecco l'addio non devi farti impare oppure sopra non prendi da qui non è stato facile non mi puoi sentire aspetta aspetta vettere sotto al su Vai la tua destra Fai un altro box Ecco devi fare un altro box Fatelo fare Oddio Continuo Questa è un'ottima set Non ce ne sono No ok c'è ancora una Aspetta cilla cilla 40 secondi devi cillare Non devi evitare Si si non ti far sentire Ecco se stavi sopra era meglio Ancora la mettiamo qui C'è l'altro Ok Bella vedete qui un box ora 4 1 è morto Ecco sopra E sopra l'altra destra Sopra la scala Lui non ti ha visto Ho visto l'ho visto l'ho visto l'una Non ci credo Ma come è uscito quello l'improvviso C'è lo scarpo Quante robe Sali su sali su Grande che comunque Hai match per tenere le lại Si Non lo buttano via Tranquillo 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 si si è buttato l'hai buttato fuori l'hai buttato fuori oddio che bravo oddio che simpatico no uno noccato uno più uno eccolo eccolo con calma come prima vai giù prendi il cuore e torna il mio punto no 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 scendi scendi ma aspetta fatelo fare secondo voi a vita vinco io devo prendere un po di tanto da gattura per fare il mio merit prima ok va bene si 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 non ci credo 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 questo devo clipare subito non ci credo ma che cazzo è il circo il circo ragazzi il circo il circo madonna come ci arriva a stomare quello madonna io non ci voglio credere non ci voglio credere non mi hai visto fare una cosa del genere l'hai trollato come un top player lo hai trollato come un top player una cosa pazzesca che ridere madonna il circo mi sembra checo ringrazia quello là che ha ucciso con l'apportizzata perchè sennò non avevi colpito si devi editare queste due partite l'uvole ti prego assolutamente si ciao ragazzi ciao 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 ciao